In contrada a Selvapiana ha perso la vita un'anziana a 78enne, la donna è morta carbonizzata nell'incendio che è divampato questa mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Inutili i soccorsi da parte del 118 dei vigili del fuoco, il rogo si dovrebbe essere scatenato da una termocoperta. A Termoli è tornata a riunirsi la Sise Civica, a cui ha preso parte anche l'assessore Nani. Al centro del dibattito il raddoppio ferroviario, votata l'unanimità alla mozione di Di Brino per le opere di compensazione bocciata quella di Nick Di Michele sulla mitigazione acustica. La crisi al centro del convegno organizzato dall'Abia Campobasso presso l'ex GIL. La situazione è difficile, infatti nonostante un lievamento occupazionale resta lo stallo sugli investimenti. In regione ammontano a 3,7 miliardi prestiti. In Serie D e vigilia di campionato per le Molisane, il Campobasso sarà ospite del Fano. per Agnonese e Termoli partite Casa Ling, rispettivamente con Bispesaro e Fermana. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Molise TV. Apriamo questa edizione del telegiornale parlando di Cronaca. Infatti a Campobasso questa mattina intorno alle 11 è morta carbonizzata a causa di un incendio una donna che viveva da sola in Contrada Selvapiana. Per la donna 78enne non c'è stato nulla da fare. I dettagli nel servizio. Un sabato mattina sfortunato per la signora Antonietta, residente a Campobasso in Contrada Selvapiana. Infatti l'anziana 79enne intorno alle 11 è stata avvolta da un incendio mentre si trovava nella propria abitazione in località Coste di Oratino. A scaturire il rogo si presume una scintilla provocata da una termocoperta che era stata regalata qualche tempo fa alla donna. Proprio sulla termocoperta si stanno concentrando le indagini dei carabinieri che vogliono verificare se questa era norma oppure no. Intanto continuano gli accertamenti e sopralluoghi all'interno dell'abitazione che in gran parte è andata distrutta nell'incendio con vetri rotti e parti di intonaco cadute a pezzi. Tanta la paura tra i vicini rimasti scoinvolti per la tragica scomparsa della cara signora i quali sono sotto sciocche e non hanno voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. Tutti però la ricordano come una donna gentile e riservata che purtroppo nella mattinata di oggi è andata incontro ad un tragico destino. Infatti dalle prime ricostruzioni la donna avrebbe anche tentato in vano di salvarsi salvo alla fine arrendersi alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 che nonostante la tempestività non hanno potuto salvare la vita dell'anziana che è stata avvolta in un telo bianco nei pressi della propria abitazione. Ancora cronaca, dei siani carabinieri hanno tratto in arresto Francesco Ferro, 32enne originario di Bucarest, sul quale da oltre un anno pendeva un ordine di cattura scaturito da una condanna ad un residuo di pena pari un anno e mezzo di reclusione per furto aggravato. A Petronello del Molise un quarantenne del luogo è stato denunciato dai militari della stazione di Carpinone per furto aggravato. Accoglie al Volturno un cinquantenne originario di Ercolano nel Napoletano è stato invece denunciato dai militari della locale stazione per il reato di abusivismo edilizio. Ed infine a Disernia gli uomini dell'arma hanno denunciato una quarantotenne del posto titolare di un'attività commerciale per aver installato un impianto di video sorveglianza totalmente abusivo all'interno dei locali. Parliamo adesso di sanità. Si fa sempre critica alla posizione nella regione molise in ambito sanitario dopo l'ennesima bocciatura romana. Frattura invoca l'aiuto di Renzi e spera di evitare il commissariamento. Intanto sia dall'IDV che da NCD arrivano nuovi attacchi al governatore molisano. In Molise la sanità resta al centro del dibattito politico dopo l'ennesimo schieffo giunto da Roma con la conseguente bocciatura del piano di rientro al tavolo tecnico. La situazione sta diventando sempre più critica e di questo se ne è accorto anche il governatore Frattura che dopo l'ultimo no resta appeso ad un filo. Infatti proprio per questo motivo il presidente della regione molise si augura che Renzi di ascolto alle sue richieste, cioè quelle di evitare il commissariamento. Questo perché se arrivasse il commissario dell'attuale commissario ad acta, cioè Frattura, il decreto Balduzzi entrerebbe subito in scena senza alcuna deroga per il Molise e ciò vorrebbe dire chiusura immediata degli ospedali, innalzamento delle tasse, l'ipotetico ricorso a un nuovo mutuo e il probabile licenziamento di centinaia di lavoratori del settore che diventerebbero un surplus. A rendere l'atmosfera ancora più tesa anche gli attacchi di esponenti di altre forze politiche in primis Ulisse di Giacomo. Il danno ormai è stato fatto è irrecuperabile, irreversibile, quella di aver distrutto un sistema e un'organizzazione sanitaria e di esporre da oggi in poi i cittadini del Molise alla mancanza della tutela sotto il profilo sanitario che ricorda un bene garantito dalla nostra Costituzione. Al coro si è aggiunto anche l'altro di Giacomo Aldo, esponente IDV, che parla di plastica testimonianza dell'incapacità politica del governatore su un tema fondamentale e strategico come la sanità. Ma al di là di alle solite frecciatine e strumentalizzazioni di cui vive la politica, la realtà è una sola, che la qualità dell'assistenza sanitaria nel Molise è precipitata, i cittadini sono sempre più penalizzati e nessuna strategia è stata adottata per giungere quantomeno ad un'inversione di rotta. Ed ora non resta che sperare che chi dovrebbe sostituire o sostituirà frattura in questo ingrato compito possa finalmente invertire il trend, scongiurando il collasso del settore con misure concrete in grado di migliorare la qualità della vita dei molisani. Torniamo a parlare di Insieme per il Molise, l'associazione politica pensata e ideata dall'ex governatore del Molise, Michele Iorio. La creazione di Iorio è stata presentata ieri a Isernia, ma sì c'è stata la partecipazione dei sostenitori. Durante l'incontro il presidente Frattura è stato accusato di tirannia rispetto a diverse questioni a partire dalla sanità fino ad arrivare alla disoccupazione. Il primo a commentare l'iniziativa è Pietro Maio del PD, la strategia di Iorio è un tuffo nella preistoria politica. E ci spostiamo in Basso Molise, precisamente a Termoli, dove è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale Cittadino. Al centro della Sise Civica, a cui ha preso parte anche l'assessore regionale Trasporti Nagni, la questione raddoppio ferroviario. A termine della seduta accolta la mozione del consigliere Di Brino sulle opere di compensazione, bocciata quella di Nicolino Di Michele, sull'impatto acustico causato dall'infrastruttura. Il controverso progetto del raddoppio della tratta ferroviaria a Termoli, l'esina, quello delle barriere antirumore previste per la città adriatica e quello delle opere di compensazione, sono questi i temi che sono stati al centro del Consiglio Comunale Monotematico tenutosi a Termoli. Una Sise Civica che segue quella dello scorso mese sulla sanità e a cui ha preso parte come referente regionale anche l'assessore ai trasporti e infrastrutture Pierpaolo Nagni. Le valutazioni che noi oggi abbiamo si sono fermate ad una richiesta da parte del Comune di Termoli supportata da una convenzione firmata molti anni fa, bisogna capire anche il senso della validità di quella convenzione e delle prescrizioni che come regione abbiamo inserito presso il Cipe per quel che riguarda soltanto la direttrice che ovviamente non dovrebbe passare più sul mare ma dovrebbe passare affiancando con un tunnel in questo caso sì il Comune di Campomarino. Tutto il resto è tutto argomento da affrontare, credo che lo spazio ci sia, bisogna capire se contemporaneamente ci sono anche le risorse finanziarie. Un Nagni che non boccia quindi l'ipotesi tunnel ma di cui si dovrà discutere in seguito con RFI per stabilirne la fattibilità. Inoltre alla Sisi Civica hanno preso parte anche esponenti della società civile come la dottoressa Carmela Sica del Comitato Cittadini in Rete, favorevole al raddoppio ma non alle modalità come è stato pensato finora. Chiediamo che per il momento il Comune in autotutela sospendi questo progetto, lo si studi meglio perché è un progetto vecchio, è stato studiato nel 2000-2001. Noi abbiamo già chiesto ma da anni che venga coperto tutto il tracciato al centro di Termoli, il sedime venga recuperato per parcheggi, per opere pubbliche, per una viabilità alternativa e vengano eliminate con mezzi tecnici e ce ne sono tutte le barriere però sia sul lungomare e nord che sul lungomare sud. A margine del Consiglio la parola è tornata al Sindaco Sbrocca che ha assicurato che le compensazioni si faranno ma non ora. Poi la votazione che ha visto bocciata la mozione presentata dal consigliere pentastellato Nicolino Di Michele sulla salvaguardia dell'inquinamento acustico e approvata all'unanimità quella del consigliere Di Brino che chiede che vengano effettuate anche se non subito le opere di compensazione. E restiamo in basso Molise. Giungono novità per quanto riguarda le primarie di Montenero di Bisaccia. Infatti il circolo cittadino di Sela e il segretario regionale del partito hanno dichiarato il proprio sostegno a Nicola Palombo per le primarie del centro-sinistra che si terranno domenica 12 aprile a Montenero di Bisaccia. La scelta di sostenere il candidato Nicola Palombo afferma Gigino D'Angelo scaturisce dalla condivisione con lo stesso della necessità a livello nazionale e locale di affermare i valori di una sinistra moderna e di governo nonché di quella di un rinnovamento generazionale dalla stima verso la persona e le capacità politiche. La visita di Marchionne allo stabilimento Fiat di Termoli ha creato grandi aspettative tra gli operai molisani ma dopo i proclami dei giorni scorsi i sindacalisti della FIOM vogliono conoscere nel dettaglio il piano di investimenti per l'impianto di contrada rivolta del re. Sono passati appena tre giorni dalla visita di Marchionne alla Fiat di Termoli e smaltita l'euforia c'è chi inizia a chiedere con più precisione cosa prevederà il nuovo piano di investimenti promessi dal numero uno di Fiat Chrysler. Infatti se per la Cisle e per molte altre sigle sindacali le parole di Marchionni sono bastate abbondantemente per ridare speranza e fiducia agli operai molisani per la FIOM le cose non stanno proprio così. Benvengano gli investimenti ma quali sono i numeri effettivi di questo nuovo progetto e questo ciò che interessa i delegati FIOM dell'impianto termolese? La notizia di nuovi investimenti non può essere che positiva. Ciò che chiediamo però è conoscere nei dettagli il piano industriale cioè quanti motori verranno prodotti nel nostro stabilimento che ricaduto occupazionale ci sarà per il nostro stabilimento e soprattutto fare tutto questo insieme alle istituzioni che devono avere un ruolo importante determinato in questa circostanza. Noi già abbiamo avuto le esperienze dell'M40 anche all'epoca ci fuori un investimento per 430 milioni di euro. Ad oggi l'M40 pur essendo un ottimo prodotto non riesce ad avere più di 110 lavoratori tra operai ed impiegati. Quindi se questo dovrà essere lo sviluppo anche del motore non sarà vita comunque facile per Termoli. Il punto è chiedere all'azienda insieme anche alle istituzioni qual è nei dettagli questo piano industriale. Insomma prima di brindare i sindacalisti della FIOM vorrebbero poter analizzare numeri alla mano i dati del nuovo piano di sviluppo per la FIAT di Termoli. Il timore è che non accada ciò che è già successo nell'impianto termolese con l'allora cambio M40. Né quantomeno sta succedendo attualmente a Melfi dove gli operai lavorano con un ritmo al limite del tollerabile dopo l'accordo e l'introduzione del passaggio dai 15 ai 20 turni. Giuncono novità dalla regione sul fronte abitazioni. Infatti a detta dell'assessore Nanni sono disponibili 5 milioni di euro da utilizzare per alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti per cittadini a basso reddito, fondi previsti dall'housing sociale che prevedono particolare attenzione per le giovani coppie e per i precari. Crediamo che con i fondi a disposizione si possa creare un movimento economico sul territorio fornendo così una boccata di ossigeno alle imprese locali, ha affermato l'assessore Nanni. Intanto sulla questione è prevista una nuova riunione tra un paio di settimane per definire il percorso più idoneo da seguire per ottimizzare al massimo il finanziamento. E' giunta a termine stamattina la rassegna dell'Abi Molise che ha visto per la prima volta come protagonista anche la regione Molise. La sala della fondazione Molise Cultura i giorni precedenti è stata arricchita da 200 libri dediti alle banche. La giornata conclusiva di oggi si è basata su un incontro istituzionale fatto di spunti per migliorare la situazione economica della nostra regione. Giunge a termine l'undicesima edizione dell'Associazione Bancaria Italiana che per la prima volta ha fatto capolino in Molise, la più piccola regione meridionale. Campobasso infatti dal 9 aprile scorso è stata teatro di numerosi eventi. Le sale della fondazione Molise Cultura sono state arricchite nei giorni scorsi di 200 libri editi dalle banche italiane. Terre da sfogliare è stata l'iniziativa proposta dall'Abi che ha visto come protagonisti libri facenti riferimento all'affascinante storia d'Italia ma anche del nostro Molise. A concludere questa importante rassegna che ha cercato di unire banche, famiglie e imprese c'è stato stamattina un incontro per lo sviluppo del territorio. L'evento, mediato da Andrea Cabrini, direttore di CLAS, ha visto la partecipazione del presidente della regione Paolo Frattura, di rappresentanti provinciali del sindaco di Campobasso Antonio Battista ma soprattutto del presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli. L'ex Gile stamani si è fatta promotrice di spunti a cui attingere per risollevare l'economia della nostra regione che, come ha affermato il presidente Abbi, non ha una condizione atipica rispetto alle altre regioni d'Italia. Ma è una regione che non è atipica in Italia. Nel senso che le banche sono interessate a sostenere la ripresa, a cominciare proprio dai comparti che più hanno sofferto, nella speranza che le aziende che oggi sono in difficoltà e hanno crediti deteriorati possano tornare a produrre, a lavorare e si trasformino in società in bonus. Questo ci farebbe recuperare molte partite deteriorate ai grandi accantonamenti che abbiamo dovuto effettuare. Mortificante sentirsi criticare da chi è stato l'idiatore del deficit della regione che oggi pare voglia apparire come salvatore, ha commentato nel suo intervento iniziale il governatore del Molise. Molti gli argomenti affrontati nelle tavole rotonde che stamattina hanno preso luogo a Campobasso, una riferita alle banche al nostro territorio e una alle banche all'Italia. Tante le mission prefissatesi dalla regione molise che per la fine dell'anno prevede finanziamenti pari a 75 mila euro per risollevare l'economia della nostra terra. Speranza di sorriso è stato l'augurio del governatore Frattura, ma un miglioramento può essere auspicato solo con la collaborazione di enti, imprese e persone. Parliamo adesso di ambiente e territorio. Stamattina l'associazione Fare Verde è stata impegnata nel ripristino del sentiero pedonale che da Vico porta freddo nel cuore del centro storico di Campobasso, porta la chiesa di San Giorgio attraversando una parte della collina Monforte, un percorso molto sconosciuto che necessitava di un intervento di pulizia e manutenzione affinché potesse essere fruibile in maniera più agevole. Molti volontari che hanno partecipato all'iniziativa incentrata sull'amore per il territorio ma anche sull'integrazione e sulla collaborazione con lo straniero. Una gestione monopolistica hanno definito in questi termini gli esponenti del Movimento 5 Stelle l'affidamento del patrimonio culturale molisano alla Memo Cantieri Culturali. Sulla vicenda è stato interpellato il ministro Dario Franceschini. Ancora senza una risposta da parte del ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini, l'interrogazione è depositata ormai da mesi dal Movimento 5 Stelle sulla gestione definita monopolistica del settore in Molise. Più di una volta il Movimento 5 Stelle Molise ha inviato richieste di informazioni e trasparenza alla Direzione regionale ai beni culturali del Molise in merito alla gestione del patrimonio culturale molisano. Non avendo ricevuto alcuna risposta il Movimento, come precisato dal capogruppo in Consiglio Antonio Federico, ha depositato in Parlamento un'interrogazione sui criteri e sulle modalità di attribuzione della gestione dell'intero patrimonio culturale molisano ad un'unica associazione, la Memo Cantieri Culturali. Abbiamo portato più di qualche volta il tema qui in Consiglio ma per una questione di attribuzioni abbiamo ritenuto opportuno parlare direttamente con il Ministero e quindi interrogare Franceschini in merito dell'affidamento della gestione del patrimonio storico, culturale e archeologico della nostra Regione. C'è stata una gestione abbastanza monopolistica che si è poi rinnovata con questo affidamento e che noi abbiamo denunciato all'epoca e che riteniamo che non sia quello strumento adeguato né per valorizzare al meglio il nostro patrimonio, non per mancanze dell'associazione che si è giudicato perché sono tutti ottimi professionisti ma poi per una mancanza di pluralità della possibilità di intervenire più soggetti che ruotano nell'ambito della cultura e che si sono ritrovati esclusi a priori da qualsiasi tipo di incarico. Questo è l'elemento che abbiamo contestato all'epoca. La risposta del Ministro, chiamato a chiarire i punti oscuri del bando, sarebbe un atto dovuto verso l'intera comunità molisana per gli esponenti pentastellati. Niente più auto a Fondaco della Farina dopo anni di parcheggio più o meno selvaggio e di transito indisturbato. Oggi è stata firmata la determina che stabilisce in via definitiva il divieto di transito nella piazzola alle spalle di via Cannavina. Dopo le indicazioni ricevute dalla Commissione Traffico, spiega il delegato al Centro Storico Francesco De Bernardo e dopo una prima sperimentazione durata 30 giorni durante il periodo natalizio, si è giunti al provvedimento che vieta il transito del Fondaco della Farina. Dopo Piazza Prefettura si prosegue nel progetto di restituire alcuni luoghi simbolo della città ai cittadini, sottraendoli dalla disponibilità delle autovetture e dal parcheggio selvaggio, ha concluso De Bernardo. Ed ora passiamo allo sport. Apriamo la pagina sportiva vedendo nel dettaglio gli incontri della trentesima giornata del campionato di Serie di Girone F. Albaio Vettus Fano Campobasso, Castelfidardo Maceratese, Giulianova Matelica, Civitanovese Iesina, Olimpio Agnionese Vispesaro, Re Canatese Amiternina, San Benedettese Chieti, Termoli, Fermana, Celano, San Nicolò. In casa Campobasso sale l'attenzione per la sfida contro il Fano. I lupi sono pronti e vogliosi di riscatto in terra marchigiana. Per mister Vullo serve una risposta immediata alla prova deludente dello scorso turno. Lavoro si può sintetizzare così la settimana appena trascorsa in casa Rosso Blu. Infatti mister Vullo non ha risparmiato sedute estenuanti ai ragazzi del Campobasso. Questo per chi ha detto del trainer siciliano a Fano domenica serve una risposta immediata dopo la sconfitta rimediata in casa nel precedente turno. Il mister siciliano è alle prese con diversi dubbi di formazione, anche se l'ipotesi più concreta sia quella che non ci sia nessun stravolgimento tattico dopo l'ultima gara persa malamente con la Sambedettese. Dovrebbero recuperare Lazzarini e Nicolai con il secondo più sicuro rispetto al primo di sedere almeno in panchina contro il Fano. Non saranno del match invece Vitelli che deve scontare il secondo turno di squalifica dopo il rosso rimediato a macerata dalla panchina per proteste e Scudieri anche lui diffidato e arruolabile solo dalla prossima gara. Il trainer siciliano vuole una risposta dai suoi perché l'obiettivo è blindare la quarta posizione, nel resto la Recanatese battendo il Chieti ha dato una mano ai lupi, ma ciò non vuol certo dire che i giochi siano fatti quando mancano ancora diverse giornate alla fine della stagione regolamentare. Poi ci saranno i playoff e lì che il Campobasso vuole giocarsi molte delle sue carte arrivando con un buon piazzamento e sperando che il nuovo regolamento dia qualche chance in più alla squadra molisana per provare un salto di categoria. Ma ora stiamo correndo troppo con la fantasia, prima bisogna ultimare il campionato nel miglior modo possibile, poi si vedrà il resto. Sicuramente nella mente dei tifosi si fa avanti anche il sogno di un possibile ripescaggio in Lega Pro, ma questo dipenderà da tanti fattori, in primis se la società si sentirà pronta e avrà le giuste referenze per fare domanda alla Lega, ma sognare del il resto non costa nulla. Vediamo ora nel dettaglio le disegnizioni arbitrali delle molisane per la trentesima giornata della serie di Girone F. Fano Campobasso, Gualtieri di Esti, Capasso di Piacenza e Pappalardo di Parma. Termoli, Fermana, Semiere di Abano Laziale, Capolupo di Matera e Orga di Moliterno. Agnonese e Vispesaro di Gioia di Nola, Capolupo e Martinelli di Matera. E ora il Termoli, ci spostiamo in riva all'Adriatico, ultimi preparativi in casa Termoli prima della sfida a Casalinga di domani contro la Fermana. La squadra ha lavorato duramente in settimana per uno scontro importantissimo in ottica salvezza diretta. A Termoli la testa di tutti i giocatori è verso la gara con la Fermana, match ormai in piena vigilia, l'ambiente è carico per una sfida che in caso di vittoria vorrebbe dire sesto risultato utile consecutivo in altre tante gare, ovvero media da zone alte della classifica. La squadra si è allenata bene in settimana ed è pronta per il match contro il team di Iaconi. Abbiamo fatto cinque partite importanti, abbiamo fallito l'occasione con la Maternina, abbiamo fatto comunque una buona prestazione con parecchie occasioni da gol. Questo dimostra che la squadra c'è, la squadra è in salute, è convinta e determinata per raggiungere l'obiettivo. La salvezza diretta fino a un po' di tempo fa era impossibile, adesso siete in ballo? Adesso siamo in ballo grazie ai risultati e al lavoro che quotidianamente noi svolgiamo insieme al Minister e forse con un risultato diverso anche degli altri campi forse eravamo ancora più avvantaggiati per la classifica. Comunque questo a noi non ci condiziona relativamente perché noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite che sono quasi tutti scontri diretti e sono fondamentali. Domenica arriva la Fermana, una formazione che ha più cinque da voi, in caso di vittoria potresti accorciare? Potremmo accorciare, buttare loro nella zona calda della classifica per la salvezza, quindi sicuramente non sarà una partita facile. Insomma tutti i ragazzi del Termoli ci credono perché la salvezza è a portata di mano, una vittoria con la Fermana ridarebbe altro ossigeno ad una classifica che nelle ultime giornate ha visto il Termoli in netta risalita. L'appuntamento è dunque alla Cannarsa domenica pomeriggio per una gara importantissima in ottica permanenza in D. Bene, con lo sport termina il nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Io vi lascio al meteo, arrivederci. Il meteo è offerto da Dal 24 febbraio al 30 aprile, Harlem Design presenta Svuota Harlem, 1500 metri quadri di fuori tutto 1500 motivi per fare affari Cogli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione Svuota Harlem, è semplice, guarda, tocca e porta a casa Ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo Anche la domenica pomeriggio, vieni con tutta la famiglia Questa primavera da Harlem Design, il risparmio è di casa HarlemDesignArredamenti.it Seguici anche su Facebook Previsioni del tempo per domenica 12 aprile Persistono generali condizioni di bel tempo sulle regioni sudorientali dello stivale grazie alla persistenza dell'alta pressione Ampi spazi soleggiati su Puglia, Basilicata e Molise si alterneranno a qualche blanda stratificazione nuvolosa di passaggio nonché annuvolamenti in sviluppo di orno a ridosso di rilievi con possibilità di qualche isolato fenomeno Buone notizie anche sul fronte delle temperature sempre miti e gradevoli con valori massimi in pianura fino a 18-20 gradi Ventilazione debole dai quadranti settentrionali con mari generalmente poco mossi Le temperature previste Campobasso minima 7, massima 16 Isernia minima 7, massima 17 Termoli minima 10, massima 16 Il meteo è stato offerto da Dal 24 febbraio al 30 aprile Harlem Design presenta Svuota Harlem! 1500 metri quadri di fuori tutto 1500 motivi per fare affari Cogli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione Svuota Harlem! È semplice! Guarda, tocca e porta a casa! Ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo anche la domenica pomeriggio Vieni con tutta la famiglia Questa primavera da Harlem Design Il risparmio è di casa HarlemDesignArredamenti.it Seguici anche su Facebook Il risparmio è di casa Il risparmio è di casa E il risparmio è di casa